Era il gennaio 2019 quando famiglie imprese si vedero arrivare le bollette dell'acqua contenenti un aumento notevole della tariffa anche per centinaia di euro. Infatti, pochi mesi prima, venne approvata una delibera con la quale si stabilì l'incremento con effetto retroattivo dei consumi a decorrere dal 1 gennaio 2018. A far battaglia, alla vigilia dell'ultima tornata amministrativa, furono Bene Comune e il Movimento 5 Stelle che ritenevano il provvedimento ingiusto e legittimo esattamente come un cittadino che per questo fece ricorso. E venerdì è arrivata la sentenza del giudice di pace di Fano che ha riconosciuto fondate le ragioni che i consiglieri e gli esponenti di partito avevano espresso anche durante un incontro pubblico e ha condannato l'ASET a restituire quanto incassato in violazione delle norme vigenti perché applicate retroattivamente. Erano due tipi di aumenti, un aumento generale percentuale sulla tariffa per tutti i cittadini e imprese del 5,9% e poi un aumento per quei nuclei familiari composti da una o due persone dovuto a una rimodulazione delle tariffe del servizio idrico che erano parametrate non più su un nucleo familiare standard di tre persone ma sulle singole unità del nucleo familiare. La decisione comunque non definitiva perché pronunciata in primo grado riguarda il singolo utente ma ora i pentastellati e bene comune lanciano un appello al comune di Fano socio di maggioranza e titolare del controllo della società di servizi affinché intervenga per una parità di trattamento nei confronti dell'intera cittadinanza. Nei prossimi giorni verrà depositata una mozione aperta alla sottoscrizione di tutti i consiglieri. Questo principio che è stato formato con riferimento a un caso singolo ma ovviamente vale per tutti gli altri cittadini chiediamo che il comune non costringa i cittadini ad onerose e dispendiose vertenze giudiziarie ma che ripristini la legalità violata dando indicazione a Daset di ottemperare e di recepire il principio enunciato dal giudice di pace di Fano ma che conferma già tante altre pronunce nello stesso senso restituendo spontaneamente ai cittadini quanto è all'impresa quanto riscosso in maniera illegittima.